Salve e bentornati. Il flagello determinato dagli uragani è tornato a colpire devastazioni vittime alle Bahamas in questi giorni ed ora le loro preoccupazioni sono incentrate su alcune aree degli Stati Uniti. Sentiamo. L'uragano Dorian che si è abbattuto sulle Bahamas è stato declassato ora a tempesta di categoria 1, ma le devastazioni provocate restano di proporzioni in mani, comprese soprattutto 30 vittime. Una vera e propria escalation da questo punto di vista, soprattutto guardando al futuro. Il bilancio finale delle persone decedute sarà sconcertante, ha detto il ministro della Sanità del paese, Duan Sanz. Il dorianpeoplesearch.com elenca intanto i nomi di 5.500 individui di cui non si hanno notizie da giorni, mentre la Croce Rossa internazionale teme che il 45% delle case sulle isole di Gran Bahama e Abacos vale a dire circa 13.000 immobili e sia stato gravemente dannaggiato o distrutto dall'uragano. L'incubo maggiore è quello delle alluvioni che secondo le previsioni degli esperti potrebbero raggiungere livelli record sommergendo intere regioni. Ed ora la tensione va anche a Georgia, South Carolina e North Carolina, gli stati più minacciati dove intere contee e città come Charleston e Savannah sono state completamente evacuate. Torniamo in Italia dove a seguito della formazione del nuovo governo varato dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle è stato riconfermato ministro all'ambiente Sergio Costa. Sono felice che il presidente Conte mi abbia rinnovato la fiducia, vuol dire che la direzione intrapresa è quella giusta, ha detto lo stesso Costa appena rinominato. Un caso d'eccellenza che conferma i progressi compiuti dal Sud Italia in fatto di raccolta differenziata è quello rappresentato dal comune di Catanzaro che nei primi mesi del 2019 ha sfiorato il 67% di raccolta differenziata. Sentiamo. Da 5 sino a sfiorare il 67% nel giro di 6 anni. La raccolta differenziata a Catanzaro ha toccato punte di crescita insperate ad inizio decennio e procede spedita dopo la svolta del 2016. Risultati che hanno superato le aspettative, dichiara il sindaco della città Sergio Abramo. Dal 2013 il capologo calabrese infatti ha conosciuto una percentuale di crescita di più 1.699,73%. Hanno decisivo il 2016 quindi quando è iniziata la collaborazione con Conai. Da qui in poi lo sviluppo è stato costante. Casi di successo come quello di Catanzaro rappresentano un esempio per tutti i comuni del Sud Italia, un'area su cui continuiamo a lavorare con particolare attenzione, ha infatti commentato il presidente di Conai, Giorgio Quagliuolo. Come di consueto Conai ha fornito un supporto determinante al successo di Catanzaro con attività di formazione, consegna dei kit per la differenziata alle utenze e predisposizione di una specifica campagna di comunicazione rivolta a tutti i residenti. Occorre ora sostenere soprattutto la raccolta di qualità. Primo passo verso un sistema di economia circolare che permette un recupero degli imballaggi sempre più virtuoso, conclude il presidente di Conai, Giorgio Quagliuolo. Grazie per averci seguito, l'appuntamento come di consueto, la prossima settimana, arrivederci.